Sulla faccia, dritto sulla faccia. Oh, ehi capo, che succede? Eh, fortuna che sei qui. Prego capo. Volevo pranzare tra Pepe, ma Carlo sta male. Mi accompagni tu? Sì, certo capo. Bravo. Sto morendo da fame. E il ferro ce l'hai? Certo. Potrebbe servirmi? Eh, sai com'è. Le cose con Morello sono ciò po' tranquille. Ma magari sono solo nervoso. Allora come va, Tom? Lo so come va. Va bene. Certo, lo so. Tengo d'occhio i registri ogni giorno. Ma visto che è successo quello che è successo, so anche che un capo deve parlare ai suoi sottoposti senza lasciare che altri si mettono a mezzo. Stiamo trattando con gente di una certa classe. Mi piace avere a che fare con tutti questi pezzi grossi che abbiamo per le mani. Meglio di quegli imbroglioni che cercavano di piazzarci le rimanenze prima del ventunesimo emendamento. Ah, ed è solo l'inizio, Tom. Ho dei progetti. Molta gente valida in fila per la propria parte. Mi fa piacere. C'è credo che da far piacere. Un po' di tempo lontano da Bowley e i suoi piani idioti. Devo ammettere che è un altro tipo di conversazione, capo. Non ho dubbi. Però io, Sam e Pauli siamo molto legati. Ne abbiamo passate tante assieme. Già, lo so bene. Ho pensato a questo pranzo. Per tutta la settimana. Aspetto di assaggiare la cassata, Tommy. Oh, il vino. Ehi, altro vino qui. Ammoni. Vi piacerà assai questo vino. È un... Don Salieri. Prego, amico mio. Benvenuto. È un piacere, bebe. Sì. Ehi, su. È arrivato il nostro ospite. Che cosa prevede il menù? Mia madre sarebbe onorata se voi assaggiaste la sua caponatina. Eccellente, bravo, bravo. Molto bene. E lasciate che vi prenda una sedia, eh? Prego, sedetevi. Sì, sì. E davvero? Un bel chianti. L'ho messo da parte apposta per voi, eh? Oh, bene, bene, bene. Vi lascio. Sono felice che hai smesso, Tom. Beh, sarà minacciato di lasciarmi. Lo so. Te l'ha detto? No. L'ho spinta io a farlo. Gli ubriagoni sono distratti. Non volevo che commettessi errore di comprenderci. Ah, per voi? E' per voi. Ah, per voi. Tutto squisito, come sempre. Molto bene. Grazie, Don Salieri. I complimenti di un buon gustaglio come voi mi riempiono di gioia. Se sapessi con cosa ho accenato, non mi chiameresti buon gustaglio. Ah, che succede? Ah, che succede? Manco il vino, me sono provato. Ehi, Salieri! Forza, vieni fuori e facciamola finita. Dai, stanno, allo giù. Merda, attenti! L'uscita principale è presidiana. Può camminare? Sono troppo lento. Gli tenderemo a un'imboscata. E li terrò occupati mentre li aggiri passando da retro. Ne è sicuro, capo? Fallo fuori. Nessuno deve tornare a casa solo e salvo. Ok, capo, faccia attenzione. Tom, cerca di fare fretta. Alla porta principale, vane fuori, Tom, vai! I cari con il danzo! Ci penso io, capo. Lei stia giù. Nessuno deve tornare a casa vivo! Alla porta principale, vien da l'ambia, vien da l'ambia, vien da l'ambia! Alla, preparo! Ehi, tu! Chi morirai! Vieno che tu lo sappia! L'acqua! L'acqua! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Carlo convive con una ragazza a Holbrooke. Andiamo a sentire che cosa ha da dire. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Perché non lascia andare prima me, eh? Forse Carlo se l'aspetta. No, Tom. La prima e ultima cosa che vedrà sarà la mia faccia. Che cazzo... Aiuto! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Carlo torna qui! vogliono uccidermi! Morello, avrebbe avrebbe ucciso Marco! Ho dovuto farlo, ho dovuto! Mi hanno costretto! Dammi! Mi prego! È ancora vivo! non ne sono certo! ora lo siamo. Ehi, Sergio! Ehi, Sergio! Come va? Sempre in forma? Certo! Che c'è qua? Un attimo! Ma è Gordi! È lui! Ehi, Gordi! Come stai, bello? Non ti riconoscevo quasi! Che ha fatto? Hai detto che c'erano problemi già al porto, giusto? Sì, ma niente di ingestibile. Sì, beh, ho chiesto un po' in giro. Chi sto stronzo organizzava uno sciopero. E gli scioperi danneggiano il business. A meno che non li organizzi nulla. Già. Ho pensato che il sindacato ha bisogno di una nuova guida. A te va bene? Ma certo. Bene. Ora... Che mi dici dell'oscia cosa? Sono qui per questo. Salieri è sopravvissuto. Figlia della mortana! Che succedia? Non lo so ancora. I nostri sono tutti morti. Come quelli del ristorante. E basta con questi lagni. Qui stiamo parlando. Che mi dici di che dà nulla da regarlo? L'abbiamo trovato con la testa spaccata come un cocomero. Non ho mai visto nulla di simile. Salieri deve aver capito che l'aveva ciudito. Maledizione! Così non riesco a ragionare! Scoppierà una guerra! Ed essi da stare! Voto! Siamo in guerra da quando è morto Peppone. Ora è alla luce del sole. Cosa vuoi che faccia? Fatti un giro. Avviso ai ragazzi di stare a letto e di stare pronti. Ok. Spargo la voce. Ehi! Cerca solo... di stare attento. Anche tu, Don Morello. ... Grazie.